allora a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video in un clima invernale qua a passo del tonale come al solito io sono gabrie pirillo dove sei eccomi qua oggi vi andremo a presentare il nostro nuovo liquido della supreme un liquido tabacoso con mango maturo e un coccino di mentolato ora andiamo a fare qualche conclusione a questo liquido sempre andiamo a fare la recensione da passo del tonale a fra poco eccoci tornati alle conclusioni finali del nostro liquido vai birillo faccelo vedere allora questo liquido è eternity una linea nuova della supreme sono tre tipi di liquidi glory eternity e poi c'è un altro che non conosco bene non ho ancora visto bene il liquido lo proveremo ora facciamo la prova di svapo di questo liquido che è come abbiamo detto prima è tabacoso un barclay con l'aggiunta di mango maturo e un goccino di ghiacciolo che ti raffredda un po è un po un tabacco simpatico diciamo che tutto il giorno il tiro fu molto bene non smaga come magari può essere un latacchia o un kentaki che dopo un po che lo svapi dice non so pure di porta cenere ora vai gabrie drippa tra un pochino ricordiamolo che viene fornito con 20 ml di concentrato aroma e ci va aggiunta una basita di 10 ml per portarlo a 30 la basita si può mettere o a nicotina zero sempre 50 e 50 può con un'aggiunta di nicotina in base a quanto uno vuole svapare noi sappiamo a zero io lo svapo con la picco e l'origin io sto svapando con la pulse e lo speed revolution come ti sembra come un liquidino tanta roba un bel liquidozzo il prezzo mi sa che non è nemmeno alto perché la supremo fa dei liquidi abbastanza diciamo a portata di tutti ricordiamolo marina di carara molicciara e la spezia andate a trovare se avete un pochino di tempo che volete andare a scegliere a scegliervi qualche liquido particolare sono arrivate tante box tanta della robina nuova ad andare a andare a vedere che il voto ci dà io gli da un 8 mi piace davvero tanto fumo ne fa abbastanza per essere un 50 50 non è un 70 30 90 come fumiamo noi tiro di guancia volevo ringraziare il signor marco red rossi andatelo a trovare alla pizzeria a pittelli red della pizza vi aspetto con tante nuove novità e della prossima settimana saremo disponibili anche su just it per le vostre consegne a domicilio ricordiamo anche che c'è la possibilità di pagare col post o di non pagare per niente la consegna io volevo ringraziare te birillo e te gabri in versione oggi di cinghialotta per essere venuti qui a trovarmi al passo del tonale dove abbiamo passato dei giorni splendidi a svappare a parlare a divertirci e vi lascio a voi per le conclusioni di questo di questo nuovo liquido allora io ci do un bel voto a questo liquido un 7 e mezzo va bene è già miscelato te lo svappi subito al volo buono da tavola dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e il canale su instagram veniteci a trovare un bacio ciao e ricordatevi che siamo su just it la prossima settimana con il red della pizza ciao a tutti